Cambia ancora lo scenario domenicale della passeggiata di Viareggio. Passato lo shock iniziale del passaggio da zona arancione a zona rossa, in questo secondo fine settimana di semi-lockdown, le cose hanno assunto un aspetto totalmente diverso, che però ben poco ha a che vedere con le diciture situazione di necessità, che si legge sulle autocertificazioni per gli spostamenti anche all'interno del proprio comune. Le mascherine ci sono, le distanze tra le persone non sempre, ma resta il fatto che evidentemente il sole e il bel tempo sono più forti della paura di un'eventuale multa e hanno fatto sì che la passeggiata si animasse nuovamente. Niente a che vedere con l'ultima domenica di zona arancione, quando gli assembramenti fecero ipotizzare al sindaco del Ghingaro di chiudere la passeggiata, ma comunque una circolazione di persone che stona con le restrizioni della zona rossa. Tutto questo mentre Roma si sta iniziando a valutare se concedere una tregua natalizia alle chiusure nelle zone rosse, riportando tutta l'Italia in zona gialla, con il solo divieto di spostamento tra le regioni.